Carlentini e Aguato, giovane 22enne francofantese, i carabinieri ricostruiscono la dinamica. I carabinieri di Siracusa sono prossimi all'identificazione di uno dei responsabili della sparatoria dello scorso 28 aprile. Quella domenica, al termine dell'incontro, un giovane 22enne francofantese a bordo della sua autovettura è stato affiancato da un'altra auto dalla quale sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco che le hanno attinto al fianco. Il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini dove i sanitari hanno constatato che non era in pericolo di vita. Le serrate indagini finalizzate non solo all'individuazione degli autori del folle gesto ma anche alla ricostruzione della dinamica dei fatti sono state avviate nell'immediatezza e grazie ai tempestivi accertamenti basati in via precipua sulla visione dei filmati delle telecamere poste in prossimità dell'evento e sulla raccolta a caldo delle dichiarazioni di tutti i presenti nonché delle persone vicine a uno degli autori le risposte sono arrivate in brevissimo tempo tant'è che a poche ore dall'accaduto sono state ricostruite passo passo tutte le fasi dell'evento criminoso. Nel dettaglio militare sono riuscite a ricostruire la dinamica dei fatti in particolare ad accertare che la vicenda ha tratto origine proprio al termine della partita per degli asti pergressi per futili motivi. Un banale litigio si è trasformato repentinamente in un tragico evento caratterizzato da un pistolero che in curante del pericolo ha iniziato a sperare all'impazzata con l'appoggio del suo autista. In un primo momento si pensava che l'episodio potesse essere collegato alla partita di calcio ma dagli sviluppi delle indagini immediatamente aperte dai carabinieri diretta dalla procura della Repubblica Siracusa grazie a un attento esame dei sistemi di video sorveglianze comunali e delle abilizzazioni private soprattutto dalle fondamentali testimonianze e dichiarazioni di conoscenti, amici e parenti delle persone coinvolte i carabinieri hanno ricostruito le fasi salienti dell'acquato che hanno offerto spunti significativi per l'individuazione di almeno uno degli autori.